Il caso degli affidamenti diretti delle comune di Pesaro alle due associazioni culturali Opera Maestra e Stella Polare ha portato i consiglieri comunali di centrodestra ad inviare specifiche segnalazioni all'autorità nazionale anticorruzione per quanto riguarda sede e termine di spesa dell'amministrazione che hanno mostrato, ad avviso degli stessi consiglieri, documentazione carente dal punto di vista dell'indeterminatezza delle tempistiche record e dei refusi. Segnalazioni divulgate in conferenza stampa dopo settimane di esame della documentazione e di audizioni dei soggetti coinvolti emersi durante gli accessi agli atti e la commissione controllo e garanzia. Abbiamo aspettato l'audizione dei dirigenti in commissione, abbiamo atteso di poter vedere tutti gli atti compresi quelli che non sono stati protocollati all'ente e quindi che sono presenti soltanto in formato cartaceo all'interno dei fascicoli. Dopo aver analizzato la documentazione, dopo aver sentito i dirigenti, siamo stati in grado di poter procedere alla segnalazione presso l'autorità nazionale anticorruzione. La segnalazione ha riguardato specifici profili, molto tecnici, a partire dall'indeterminatezza dell'oggetto piuttosto che tutta la criticità rispetto al fatto che queste due associazioni non risultano essere scritte all'interno del registro unico nazionale del terzo settore, che quindi comporta con sé tutta una serie di valutazioni anche rispetto alla congruità dei documenti che sono stati presentati. Abbiamo proceduto poi con le segnalazioni all'ANAC relative ai singoli affidamenti, alcuni dei quali sono risultati gravemente critici. Mi riferisco a piazzale d'annunzio, ad esempio, sotto il profilo sia dell'oggetto, diciamo, della determinazione che doveva riguardare la manutenzione straordinaria e la riqualificazione del verde, poi confrontando invece con la documentazione e il preventivo di spesa che riguardava invece la realizzazione del casco, si è evinta una grande criticità. Poi ulteriori criticità sono emerse con le sponsorizzazioni che naturalmente non sono state poi contabilizzate nelle determinazioni di spesa. Altre criticità importanti sono emerse per i lavori di risanamento dei cento murales esistenti in città, dove sono stati assegnati circa 43 mila euro per lavori ancora non eseguiti e da effettuarsi nel 2024 e nel 2025. Vi erano delle determinazioni completamente false nell'oggetto, come quella relativa alle opere idrauliche che invece riguardavano la realizzazione di un murales, questo a titolo esemplificativo. Poi i singoli affidamenti, le singole determini avevano anche delle criticità importanti perché non veniva individuata ad esempio la motivazione di scelta dell'affidatario oppure non venivano individuati i criteri relativi alla congruità della spesa o era indeterminato l'oggetto della prestazione o c'erano delle anomalie temporali. Ora effettuate queste segnalazioni all'ANA che il passo successivo sarà quello di valutare sempre questi affidamenti sotto il profilo invece della corretta gestione della spesa pubblica. Quindi abbiamo a tal fine richiesto i bilanci analitici del 2021, 2022 e 2023 del Comune per poter confrontarli con la documentazione relativa alle singole determinazioni e verificare se c'è stato uno scorretto impiego del danaro pubblico. Quindi autorità competente in questo caso sarà la Corte dei Conti che è l'organo deputato a vigilare in questa direzione. Da queste segnalazioni ci aspettiamo un riscontro che avverrà sicuramente nelle prossime settimane e rispetto alle quali credo la comunità sarà giusto, verrà resa idotta di tutto quello che starà accadendo.